Ecco, dottor Grigo, un bilancio di questi anni a Varese? È estremamente positivo, è stata un'esperienza straordinaria perché ho avuto la fortuna di collaborare con magistrati sia inquirenti che giudicanti e di estrema professionalità. Come giudica anche il lavoro delle inchieste che avete svolto in questi anni? Ma direi che il lavoro è stato ottimale, ho condotto in parte con i criteri tradizionali ma anche avvalendoci attraverso le forze dell'ordine ufficiale di polizia giudiziaria dei più moderni mezzi tecnici disponibili. I cittadini cosa possono pensare dei magistrati in forza Varese? Abbiamo comunque un buon capitale umano? Guardi, io assicurerei i cittadini anche sotto questo profilo e spero che con le mie modeste interventi sia riuscito in parte a contribuire a recuperare quel rapporto di fiducia tra cittadino e utenza giustizia che è fondamentale in una convivenza civile.